Sparagi di utilizzo così taglio via la punta e questo la tengo intera che poi è buona da trovarsi l'asparago fino a un certo punto è abbastanza tenero dovete un attimo cercarle fino qua questo lo taglio tutti a pezzettini così e mi va insieme con la punta il resto che non è proprio durissimo vedete perché il durissimo comincia qui questo io l'ho tritto con un po di acqua e faccio una cremina che mi serve per mantecare il riso l'ultimo pezzo lo faccio a pezzi e lo metto nell'acqua salata che mi farà da brodo per il risotto in questa maniera non vado a sprecare assolutamente niente possono naturalmente anche pelare vedete così questo si può usare perché dentro l'interno è abbastanza tendero e frullarlo anche questo ho messo in questo caso del cipollotto che è più delicato con un po di olio esterovergine d'oliva lo faccio lentamente appassire poi metterò dentro le punte degli asparagi e i cerchioletti pezzettini che ho tagliato quelli più teneri a giusto di sale e di pepe e gli faccio insaporire per 2-3 minuti non di più perché poi coceranno anche insieme al riso altrimenti diventa tutto troppo cotto io ne ho messi una sette e mezzo siamo io e mia figlia che mangiamo perché ne faccio comunque un po di più che domani porterà al lavoro perché il risotto è una di quelle cose che è buonissimo anche il giorno dopo e quindi meglio se ce n'è in abbondanza adesso giunto un po di acqua e tritto le parti non terminali ma quelle che sono un po durette dell'asparago ne fa tempo faccio bollire in acqua salata con sale grosso le parti coriacee del gambo dell'asparago ecco con la parte diciamo più durita ho fatto questa e papita questa emulsione questa crema che mi servirà per dare ancora più sapore al risotto naturalmente gli elastici li tengo tutti che vanno benissimo per sudere le confezioni e poi sono sempre così belli colorati che fanno tanta simpatia facciamo tessare brevemente il riso insieme con l'assaragi e poi aggiungiamo il brodo mantenendo sempre il bollore del risotto circa 10 minuti vado ad aggiungere la mia purea di gambi di asparago mescolò bene di modo che non parla il bollore lo parla solo per un istante verso il termine della cottura ho aggiunto del gommario e dei segni e poi andrò mantecare con della panna di riso ecco qui vado di panna di riso e di panna di soia come preferito mescolo e spengo lascio riposare per un paio di minuti e poi si può servire se volete potete aggiungere anche del lievito alimentare in scaglia naturalmente io ho sapete che mi è finito non lo mangia e quindi me lo metto poi a parte ecco il nostro risotto vedete spettacolare è pronto eccolo pronto buon appetito